Un saluto dal Tg della Mobilità, lavori notturni di manutenzione tra le 22 e le 6 nel sottovia del Lungotevere in Sassia, sono in programma sino a domani. Nelle ore di cantiere viene sospesa la corsia preferenziale nella Galleria Pasa, da Piazza della Rovere a Porta Cavalleggeri. E da oggi al via e lavori stradali in via Torrevecchia, nel tratto compreso tra via Vallebona e via Cesare Lombroso. Da oggi quindi modifiche per il trasporto pubblico della zona, in particolare per le linee di bus 46, 49, 546, 907, 916 scolastiche e per la notturna N46. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.